Rivolgo a tutti voi un accorato appello a continuare a pregare con insistenza per la pace in Terra Santa, alla luce dei tragici eventi degli ultimi giorni. E invito tutti voi ad unirvi nella preghiera. In silenzio tutti preghiamo. Ora, Signore, aiutaci Tu. Donaci Tu la pace. Insegnaci Tu la pace. Guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire mai più la guerra. Con la guerra tutto è distrutto. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdono. Amen. Grazie.